Presidente Dardanello, lo sviluppo delle valli anche attraverso la tecnologia, qui a Piovediteco è un convegno che abbraccia diversi settori, non soltanto le produzioni ma anche i collegamenti possiamo dire. Io credo che l'innovazione tecnologica oggi non possa che raggiungere ogni ambito del nostro paese con risvolti di carattere economico ma di carattere sociale. Io dico di carattere legato alla crescita, allo sviluppo di territori probabilmente marginali oggi nei grandi sviluppi, nei grandi incroci degli interessi del mondo. Ecco oggi c'è bisogno grazie a queste nuove tecnologie di poter portare il vento della novità, del nuovo, del futuro anche a chi vive in aree cosiddette marginali, fragili come quelle delle nostre valate alpine, del nostro entroterra Ligure, delle tante aree del nostro paese che hanno bisogno per rimanere protagoniste di avere strumenti adeguati per poter competere. Oggi credo la digitalizzazione è uno degli strumenti dei quali non si può prescindere, con un'accelerazione in questa direzione si possono raggiungere ogni angolo del nostro paese e dato che probabilmente soltanto per terra non ci si riesce a arrivare, noi vediamo come arrivarci dal cielo a poter portare nelle aree anche più marginali questa novità che oggi è lo strumento, il sale sul quale costruire, io dico politiche, costruire strumenti, costruire servizi, dare nuove opportunità non soltanto agli operatori economici ma io credo ai cittadini del mondo e in modo particolare del nostro paese. Proprio in questi giorni insieme a quel straordinario personaggio che è Eric Schmidt, uno dei tre che in quel garage americano anni fa inventarono niente poco di meno che Google, abbiamo immaginato come insieme il sistema camerale italiano e Google possono ridare valore, forza straordinaria alle nostre infinite e immense potenzialità. Presidente Matteo, insomma i nostri prodotti naturali, il nostro territorio incontaminato si può valorizzare anche con le tecnologie, con il satellite, con il computer? Ma è chiaro, l'ha detto appena adesso il Presidente Dardanello, è una necessità proprio perché se vogliamo parlare in un mondo che riguarda il terzo millennio dobbiamo parlare anche di sfruttare queste nuove tecnologie e le aree proprio come le nostre hanno necessità di avere questa tecnologia quindi qui noi stiamo lavorando con la regione Liguria che sta completando e dovrebbe completare in tempi brevi anche la possibilità di raggiungere tutta l'informa mediatica, in forma mediale tutti i vari paesi per poter far sì che le imprese possano sviluppare delle tecnologie nuove ma anche coloro che vogliono vivere in questo nostro territorio e sfruttare la vicinanza tra il mare, la costa e l'entroterra per poter anche però iniziare nuove attività quindi è un discorso che va legato all'imprenditoria nuova, va legato all'imprenditoria tradizionale, va legato anche al turismo ma ci sono tantissime persone che oggi si trasferiscono dall'estero e anche dall'Italia, dalle grandi città e vengono a vivere qui da noi e continuano a lavorare attraverso gli strumenti informatici certo che se non gli diamo la possibilità di poter iniziare questa attività perché oggi essere qui piuttosto che a New York o che a Milano o che a Berlino cambia poco perché uno può benissimo svolgere delle attività nuove anche con posizionamenti diversi da quelli tradizionali e questa è un'occasione che ci permetterà anche di sfruttare il nostro territorio ma quest'oggi penso che parleremo anche del progetto che Dardanello porta avanti da tanti anni che è quello delle Alpi del mare cioè il discorso di integrazione dei nostri territori che vedono al futuro io penso che sia venuto anche il tempo che lo Stato faccia delle riforme anche organizzative funzionali che vadano a pensare dei territori che si possono sviluppare nel futuro non possiamo solo pensare più ai discorsi storici che sono sì importanti ma a vedere la nostra Italia come un'Italia che si integra nell'Europa e che integrandosi nell'Europa vede anche la possibilità di integrare quei territori che hanno delle vicinanze economiche tradizionali importanti io penso al fatto che ancora oggi ma ahimè la 28 non è ancora finita io sono sicuro che se noi avessimo avuto un rapporto più stretto tra Imperio e Cugno la 28 e la 20 l'avremmo sicuramente già completata Sessore Giovanni Barbagallo ancora una volta si parla di sviluppo del territorio questa volta legato alla tecnologia un discorso importante soprattutto per i territori più interni per queste Alpi del mare noi dobbiamo dare la possibilità a tutto il territorio rigore di avere le stesse chance per quanto riguarda la tecnologia allo sviluppo delle telecomunicazioni non è casuale che col PSR 2007-2013 abbiamo finanziato la banda larga che sta arrivando ormai in tutta la Liguria compreso l'entroterra anche perché oggi se un turista straniero e non straniero vuole andare in un agriturismo dell'entroterra vuole avere gli stessi servizi che ritrova nelle grandi città e nelle città della costa quindi è importante focalizzare questi aspetti proprio perché attraverso lo sviluppo economico l'entroterra può avere un ruolo importante nell'economia della Liguria